Continuano i roghi nella zona sud della provincia di Salerno e ad essere messo in ginocchio dal fuoco è ancora una volta il Vallo di Diano. Da oltre 48 ore infatti il monte del crocifisso a San Pietro Altanagro brucia ininterrottamente e nelle operazioni di spegnimento è rimasto ferito anche un operaio della comunità montana Vallo di Diano della squadra antincendi. L'uomo si trova ora ricoverato presso i Luigi Curto di Polla, probabilmente dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico ad una mano. L'incendio ha provocato anche il distaccamento di alcuni massi, tanto da rendere necessaria la chiusura al traffico della strada di collegamento tra San Rufo, località Scalelle e Manca. Sul posto, tra gli altri, i carabinieri forestali della stazione di Tetteigiano, i vigili del fuoco del distaccamento di sala Consilina e gli operai del servizio antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Ad aiutare anche i volontari dell'associazione di protezione civile FATA Ollus di San Pietro Altanagro. Nel tardo pomeriggio di ieri poi un nuovo incendio è divampato tra Atena, Lucana e Polla nella zona orientale del Vallo di Diano che infiamma da almeno una settimana. I roghi si sono susseguiti senza soluzione da una montagna all'alta del comprensorio e decine di ettari di bosco sono andati completamente distrutti.